Domanda numero 221 del Catechismo di San Pio X. Chi è obbligato al digiuno ecclesiastico? Al digiuno ecclesiastico è obbligato ogni fedele dai 21 anni compiuti ai 60, se non ne sia scusato per infermità, per lavori gravosi o per altra giusta ragione. Vedete, la Chiesa è, diciamo così, fin troppo benevola. Dai 21 anni ai 60, vuol dire che fino ai 21 anni uno può ingozzarsi, può fare quello che gli pare dai 60 in avanti. Oggi che a 60 anni uno è ancora in forma e può ancora partecipare un pochino, in qualche misura alla passione di Cristo con qualche digiuno, qualche astinenza, qualche rinuncia e anche prima dei 21 anni lo si fa lo stesso. Allora, non ci dobbiamo attaccare alla lettera, dai 21 ai 60, quindi prima e dopo basta, alle pranzi luculliani così ce la spassiamo. No, non è così. Ci sono dei limiti che sono soprattutto determinati dalle forze delle persone. Non possiamo pretendere da un poppante, da un bambino di quattro anni, che come orizzonte ha quello di mangiare la merendina, mangiare la mela, mangiare le cose, di un digiuno come può fare un adulto evidentemente. Certo, anche al bambino di tre, quattro anni si può fare una piccola rinuncia, aiutandolo, educandolo alla fede innanzitutto, all'amore per il Signore, l'amore per la Madonna, fare un piccolo fioretto. Io ricordo quando ero piccolo si parlava dei fioretti, un fioretto per la Madonna. Un linguaggio, diciamo così, infantile per aiutare anche il bambino a crescere nella fede e a scoprire che la sofferenza unita a quella di Gesù può essere davvero redentiva, ci fa crescere. E questo è molto importante a fin della più tenera infanzia. Certo, bisogna essere saggi e fare in modo che ad ogni età ci sia una proporzione tra quello che si può fare e quello che si arriva a fare. E per questo la Chiesa ha messo questi limiti, che sono limiti, diciamo così, abbastanza generici, e che io prenderei cum grano salis, non in maniera rigida. E poi anche dà una regola per chi può evitare il digiuno o le astinenze. Chi per infermità non può fare digiuno perché è malato e deve prendere le medicine e via di seguito, lui accetti la sua malattia, accetti la sua sofferenza e forse questa gli vale di più che rinunciare a mangiare un pasto. Perché a volte anche accettare la malattia, accettare le sofferenze e la, diciamo così, la marginalità sociale che si subisce a causa di una malattia, a volte è una sofferenza che si può offrire al Signore e questo veramente risulta gradito al Signore perché è veramente dare noi stessi, dare il meglio di noi stessi, cioè la nostra efficienza, la nostra importanza. Io sono importante, io sono qua, io so fare questo, io so fare quell'altro. No, sono malato, ho dolori e posso solamente stare a letto e farmi servire e sono ormai un peso per gli altri. Mi arrabbio, rifiuto questo o lo accetto e lo offro al Signore? Lo offro al Signore. Allora se non posso digiunare perché per malattia non posso, Gesù accoglie quello che io posso offrire ed è ben contento di accettarlo. E poi anche per lavori gravosi, uno si alza alle 4 del mattino e spacca le pietre tutta la giornata, diciamo così, non puoi rinunciare completamente al cibo. Io immagino il digiuno del Ramadan che fanno i musulmani che li mette in serie difficoltà. Penso a quelli che lavorano nei campi o quelli che lavorano su andando a montare i tetti delle case che digiunando tutto il giorno mettono a repentaglio non solamente la propria salute ma anche la salute degli altri perché non hanno la forza fisica per fare dei lavori pesanti. Noi, ringraziando il buon Dio, non siamo islamici, siamo cristiani e quindi usiamo la ragione e la Chiesa, poiché usa la ragione, dice no, se hai dei lavori gravosi da fare fai un'altra rinuncia, ma non rinunciare a quel cibo che ti è necessario per fare in maniera giusta svolgere il tuo lavoro. E poi, peraltro, giusta ragione. Questo include qualunque giusta ragione. Dentro questo uno ci può mettere quello che gli pare. Ah ma io ho fame e quindi è una giusta ragione. No. Ah ma io adesso ho la festa con gli amici e è una giusta ragione. No. Giusta ragione vuol dire giusta. Giusto è un criterio che devi assumere tu davanti a Dio. Vuol dire che la tua responsabilità, la tua coscienza davanti a Dio deve dire Gesù, cos'è giusto fare? Siccome c'ho la festa vado a ingozzarmi come un'oca da ingrasso per il foie gras, anche se è venerdì santo, forse il buon Dio mi suggerisce nell'animo una parolina. Rinuncia a questa festa. Questa festa, forse rinunciata per amor mio, può salvare delle anime, può espiare per i peccati di quelli che in quella festa faranno dei peccati. Forse. Allora usiamo la ragione ma usiamo anche l'amore per Gesù e l'onestà davanti a Lui perché Lui non lo possiamo imbrogliare. È inutile. Noi possiamo imbrogliare noi stessi e dire no, no, è giusto, è giusto che io vada perché gli amici, gli amici mi aspettano. Agli amici non importa niente di te, diciamo la verità. Faranno festa anche senza di te. Se tu fai questa rinuncia per amore al Signore, sarà una grandissima cosa. E io sono sicuro che le piccole anche o grandi rinunce che facciamo per amore a Dio, Dio non le dimenticherà. Chi è obbligato al digiuno ecclesiastico? Al digiuno ecclesiastico è obbligato ogni fedele dai ventunanni compiuti ai sessanta che non sia scusato per infermità, per lavori gravosi o per altra giusta ragione.